Saluto Sua Eccellenza Monsignor Leuzzi, Vescovo Ausiliare di Roma ma innanzitutto Cappellano della Camera dei Deputati, saluto il collega e amico Vicepresidente della Camera Rocco Buttiglione, tutti i colleghi parlamentari che sono qui e anche i giornalisti che hanno voluto accettare l'invito ad essere presenti a questa inaugurazione della mostra appunto sulla figura di Tommaso Moro, il sorriso della libertà. Anche il professor Rialti è qui con noi e dopo brevemente accompagnerà il Presidente del Consiglio e tutti noi ad una visita rapida della mostra. Per la Camera dei Deputati ringrazio anche la Fondazione Costruiamo il Futuro, il segretario della Fondazione, il dottor Orsi perché insieme col professor Rialti hanno proposto appunto alla Camera dei Deputati durante l'anno della fede che come sapete è appena iniziato ed è stato proclamato da Benedetto XVI di ospitare, di promuovere una mostra sulla figura di Tommaso Moro. Noi abbiamo accettato, anche a nome del Presidente della Camera che oggi non c'è perché è impegnato in altre in Sicilia, volentieri di dare la massima pubblicità e rilievo alla mostra e l'abbiamo ospitata qui alla Sala della Regina proprio perché voi sapete tutti è il Presidente del Consiglio, primo fra tutti lo sa che Tommaso Moro è nell'anno santo stato proclamato da Giovanni Paolo II il patrono dei politici e dei governanti e in un momento come questo, in un momento dove mai così è alta la distanza tra i governanti e i politici e i cittadini, chiedere non solo per chi crede l'aiuto e la protezione del nostro patrono ma innanzitutto approfondire e riferirsi alla figura di Tommaso Moro credo che possa essere molto significativo e utile per noi parlamentari, per i governanti di questo Paese e anche per tutti coloro che visiteranno questa mostra. Ricordo a tutti che questa mostra sarà questa settimana alla Camera dei Deputati, poi andrà proprio per l'anno della fede in Vaticano e sarà esposta in Vaticano e poi girerà partendo da Milano in giro per l'Italia proprio per permettere in questo anno della fede di avere come riferimento la figura di Tommaso Moro. Io concludo solo due brevissime parole proprio per dire qual è la ragione dell'attualità della figura di Tommaso Moro. La prima è quella per cui Giovanni Paolo II appunto il 31 ottobre del 2000 decide di proclamare patrono dei politici e dei governanti Tommaso Moro e lo dice in maniera molto chiara nella sua lettera dicendo che Tommaso Moro è in assoluto, non è stato un politico ma è stato uno statista, uno dei pochi uomini cui si possa con piena cognizione attribuire questo titolo. E qui è il grande tema di riflessione già posto altre volte. Ricordo che lo stesso Presidente del Consiglio in suo intervento ha ricordato un intervento di De Gasperi dove diceva che la grande sfida per chi fa politica è quella di decidere se essere appunto un politico e di pensare agli interessi degli elettori o di essere uno statista e cioè di pensare agli interessi dei propri concittadini e dei propri governanti. Io credo che questo sia esattamente uno dei punti su cui vale la pena aprire e fare una riflessione nell'attualità e nel momento attuale. La seconda è che, non dobbiamo nasconderci, Tommaso Moro è politico e santo e qui c'è il grande tema che in tutta la mostra viene percorso del rapporto tra la fede e la politica. Ma in Tommaso Moro questo rapporto è talmente evidente, talmente chiaro nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità ma anche nella chiarezza del fondamento per cui uno può fare politica. La fede non decide, non detta i comportamenti per chi fa politica ma ne dà per Tommaso Moro non solo l'ispirazione ma è il giudizio nell'azione del fare politica. È il giudizio ideale altrimenti, si dice anche nella mostra e lo professor Rialti l'ha sottolineato, la democrazia senza riferimento a un valore che non sia solo quello derivato dal consenso popolare o del re, mostra tutta la sua fragilità e il suo rischio di violenza. Voglio concludere con le parole di Tommaso Moro che aprono la mostra. Nella lettera che invia la figlia a Margaret prima di morire, prima di essere decapitato, Tommaso Moro scrive nulla accade, cara Margaret si riferisce alla figlia, che Dio non voglia e sono sicuro che qualunque cosa avvenga per quanto cattiva appaia sarà in realtà sempre per il meglio. E nella preghiera che abbiamo anche allegato e che conclude la mostra la prima frase della preghiera di Tommaso Moro dice appunto bisogna beati quelli che sanno sorridere di se stessi perché continueranno a sorridere per tutta la vita. Grazie a tutti.